ciao chi è? non lo so c'è uno nel freezer c'è l'ariston nel freezer il frigorifero è ariston ciao ariston forse non abbiamo capito quale è ariston ah non lo so forse la sponsorizzazione è sbagliata vabbè ragazzi stiamo parlando con un ariston comunque si infatti ci hanno detto che faremo una serata in frigo il 24 aprile ah che inizia a fare un po' più caldo infatti vedete che siamo proprio rovinati qua non ci sta un clima terribile perché questo è il freezer noi viviamo in frigo sotto qua al piano di sotto e i condomini sopra ci hanno dato la possibilità di girare il video perché è più bello io scopro le cose che stasera ceniamo assieme e che ceniamo? il mirto ceniamo mirto allora no volevamo salutarvi tutti e ringraziarvi perché per l'opportunità che ci date di recitare in questo teatro ma è una cosa incredibile veramente non avevate nessuno da chiamare pensa che noi non abbiamo mai fatto teatro e per la prima volta facciamo teatro all'ariston che è una cosa incredibile fantastica anzi volevamo salutare paolo ruffini che non ci conosce mai visto mai visto però staremo assieme sul palco giana del bufalo giana del bufalo anche veronica ah veronica la conosciamo anzi la chiamiamo in questi giorni in questi giorni facciamolo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si iscriveranno all'ariston comic selfie di quest'anno assolutamente perché ragazzi andate e soprattutto state attenti a riccardo ciao ricca e vabbè che cosa dobbiamo dire della serata ah guardate è una serata bellissima noi abbiamo letto il copione non è vero non è vero che ci è arrivato in questi giorni ci hanno detto ragazzi voi venite e improvvisate quindi tutti quelli che sono abbonati al teatro mi raccomando trovatevi qualcosa da fare il 24 di aprile tra l'altro il 25 è festa è anche al lavoro quindi uscite è festa il 25 sì è mio onomastico tra l'altro ah allora scriveteci cosa si può fare a Saremo il 25 per festeggiare l'onomastico di l'onomarco io noi intanto vi salutiamo e congeliamo il Natale non fare pubblicità congeliamo il Natale che cosa? è per periodo di Natale lo congelo ah buona epifania a tutti che tra poco c'è la bepana che arriva perché stiamo facendo un panettone nel tanto? non ho un panettone nel tanto ma vedi che stanno facendo una conferenza stampa sul calentare non puoi disturbare scusateci scusatelo ma dobbiamo purcenare certo come si dice a Napoli nella vita magna arrivederci arrivederci